Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostro in questo video dove trovare le varie casse dorate nel trono mondo di Sabaton. Ci tengo anche a precisare che vedrete alcuni punti del video in cui non ci saranno le casse perché io precedentemente in streaming le ho già raccolte quindi non preoccupatevi voi le avrete. Nel caso in cui non le avrete vuol dire che l'avete già raccolta quindi non preoccupatevi procedete a trovare le altre. E niente ragazzi io vi lascio con questo video e vi auguro una buona caccia all'oro. Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.